Abbiamo fatto la prova su un testo di legge, mai letta io perché non ci capisco niente, già era un argomento difficilissimo, ma se penso alla storia che abbiamo inventato, io me ne ricordo, anche i termini mi ricordo e questa cosa mi sconvolge perché ti dico l'obbligazione tributaria, solo dire obbligazione tributaria per me è difficile, non so se mi spiego, io non ho una mente di leggi, però se penso all'immagine, mi immagino allora tutta la nostra suddivisione nella stanza e riesco a dargli un senso, quindi posso sfruttare le immagini per ripetere, cioè io oggi mentre preparavo il pranzo ripetevo il discorso pensando alle immagini, non so se mi so spiegata, quindi lo vedo molto efficiente. Lo è, lo è, bravissima Renna, è solo questione sai cosa, di giocarci. Ti devi buttare, devi rompere gli schemi mentali tuoi, i miei primis perché in realtà la storia visiva, l'immagine che c'hai della storia, poi io la pensavo e mi venivano le parole per migliorare la terminologia.